fai di racconto, fai di racconto perché mi ha morito a quel camionista? fai di racconto fai di racconto fai di racconto ah beh guarda fai di racconto oh no 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 che cazzo no ma cosa cazzo fa? ma cosa cazzo fa? ma gli ha rubato il portafoglio? ma gli ha rubato ma gli ha rubato ma gli ha rubato